Con Mr. Ghegrucci prima della Propatria, è una squadra un po' in affanno ma per questo motivo dobbiamo scendere in campo con una maggiore attenzione ancora rispetto al solito. Assolutamente sì, anche perché poi tutte le gare mettono in paglio tre punti e noi dovremmo cercare di farci trovare pronti, leggere bene le situazioni e cercare di fare una grande partita per portare a casa tre punti. E a parte Sosa squalificato ci sono altri indisponibili? C'è da fare delle valutazioni con il medico perché abbiamo qualche cosa da valutare, valuteremo con molta attenzione e metteremo in campo gente che ha efficienza massima. Due impegni ravvicinati prima di Pasqua, data in cui volevamo fare qualche valutazione, è sempre così, siamo attualmente nei playoff? Sì, tutto corretto, noi dovremmo giocarci questa partita con grandissima attenzione, non avremo tempo perché il calendario non ci dà rifiato, già giovedì affronteremo la seconda gara. Prendere di gara in gara attenzionando nel minimo particolare, nel minimo dettaglio queste opportunità, cercando di portare a casa dei punti importanti per poi vedere dopo Pasqua il nostro posizionamento in Pacifica e quali sono le reali obiettività di una squadra che poi vedrà il vialone del traguardo e dovrà cercare se è necessario di sgomitare, se è molto performante di andare a portare, a centrare un obiettivo che è quello dei playoff che per noi sarebbe fondamentale.